Ciao a tutti e bentornati sul canale, i segreti della rampicata. Ovviamente prima di avvicinarci alla falese è importante documentarci e riguardo alla documentazione quello che per noi riteniamo sia un testo sicuramente importante è Ossola Rocca, l'ultima edizione della guida scritta per versante sud da Manoni, Pelizzone e Stoppini, 551 pagine per conoscere tutte le caratteristiche delle falese, non solo, della zona che va tra il Sempione e il Lago Maggiore e proprio a proposito del Lago Maggiore è fresco di stampa, il lavoro scritto, la guida scritta da Massimo Bodi, un caro amico, si chiama il nome della guida Motarone Rocca e raggruppa tutte le vie di arampicata anche molti piccoli presenti sulla montagna dei due laghi e comprende anche le ultime vie aperte. Un libro ha richiesto con tante fotografie e costa di 200 pagine complessivamente.